Sono stati celebrati nel pomeriggio di ieri, 23 dicembre, i funerali di Vanessa Torromino, morta per cancro. Una chiesa, quella di Santa Rita, stracolma di persone, che hanno voluto dare l'ultimo saluto ad una donna speciale, che nel corso della sua malattia, vissuta con grande dignità, lascia nei cuori di tutti un ricordo di grande affetto, oltre che di dolore, per la sua perdita. Una donna speciale, che nel corso di un anno, da quando l'è stato diagnosticato il tumore, ha sempre continuato ad essere l'immagine di una donna sorridente e con grande dignità, appunto. Una lezione di vita per tutti, perché nonostante la sua malattia, nonostante la sua sofferenza, ha sempre dimostrato di essere una donna forte. Cara Vanessa, la nostra amicizia è iniziata di venerdì e per un anno, ogni venerdì, ci siamo incontrate, ci siamo scambiate un affettuoso saluto e condiviso la gioia di vederci. Il tuo sorriso coinvolgente, il tuo affetto ogni volta che ti chiamavo la mia principessa, sono nel mio cuore. L'ultimo saluto è stato anche questo di venerdì e nonostante si capiva che stavi staccando la spina dalla vita, mi hai salutato, cosa inaspettata, visto le tue condizioni. Cara Vanessa, è vero, bisogna vivere l'oggi, ma di fronte alla perdita di persone care, l'oggi è l'insieme dei ricordi e ognuno di noi sa che i ricordi sono il filo conduttore tra cielo e terra. Il dolore della tua famiglia, a cui ci associamo tutti noi, è un dolore che rimarrà come una ferita aperta nel cuore. Non dimenticheremo il tuo volto sorridente, la tua risata, la grande forza come donna, madre e moglie. Una lezione di vita, perché non ti abbiamo mai sentito lamentarti, ti abbiamo visto sempre determinata a lottare contro il cancro, contro questa malattia che sta colpendo tante famiglie di crotone. Ho voluto dedicarti questo servizio perché so che tutti noi abbiamo bisogno di stare con i piedi per terra e di non lasciarci sopraffare dagli affanni e dai problemi. Dobbiamo tutti cogliere da questi momenti il vero significato della vita. Non siamo padroni del nostro tempo e quando arriva il momento di passare dalla vita terrena a quella eterna, tutto succede come da programma divino. Cara Vanessa, rimarrai per me una persona speciale e sarai sempre nel mio cuore. Ciao principessa. La master è la maturity, quindi era una donna che si festeggia in questo, in Calabria, dove è una donna della tendenza, diciamo una donna della tendenza, che è un' pid bandita anche tra tante icone, introdosse, piossagine. È quella che la mancia della mamma e collaborava nel suo cuoto del bambino. A questo del bambino non c'era il bambino, perché è un loro